ahahah città 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 ragazzi quei zilli venuti in questo nuovo video oggi con me c'è velocissimi grazie ragazzi ci sono questi qua che sono i malati della della stream vabbè gente che se ne va gente che se ne va dove sono? oh mio dio ci stanno in grado da dietro stanno facendo bello aiuto porco dio raga no è questo raga no tesa porco dio raga raga picchiate il cancro picchiate il cancro è quello che sto a fa io però nessuno lo segue fuggite raga ragazzi comunque questi qua questi qua sono i tizi che ci sono nello stream di di sogg siamo gente per bene gente per bene esatto no no siamo scarsi ma com'è che tipo appena mi distrago il mio portafoglio su League of Legends aumenta è perchè sei a Napoli io sono morto come un coglione raga questa qua abbiamo perso grazie siamo stati a mezz'ora a fare la presentazione lol questi qua sono dettagli che non si possono dire già già Diana è diventata grossa no comunque ragazzi stiamo giocando stiamo giocando a questa modalità per farvi capire quanto fa schifo quanto è merdosa perchè io la odio questa modalità però voglio gli emblemi quindi non ho il coraggio di giocare per gli emblem su sta cosa non ho capito cosa ti deve fare no 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 no! raga mi tocco il pisa mi tocco il pisa raga raga è sintesissima comunque ragazzi anche Snow sta registrando quindi mi raccomando passate sul suo canale mi lascio il link in descrizione mi fa game play su osu con la tavoletta ci mette sopra il pisello E gioco A dire la verità ho smesso Perché tipo dovevo giocare qualcosa come 5 ore al giorno Per essere decentemente allenato Mi sto concentrando solo all in questo momento Io sono morto Si sta concentrando sulla figa No ti inculo la vita Sei un pezzo di merda Oh raga Volo sempre ciao Oh raga Dovevo startare con l'elizia Comunque ragazzi vi ringrazio per gli 800 iscritti Che veramente sono tantissimi Ringrazio Me ne sono fatti 600 in 3 settimane Oh ringraziate anche voi Non siete scortesi Un altro raga No il primo è sceso Oh raga Pierluca free ricordatevi Mi ha scritto pierluca La chat ha iniziato a caso questo Allora raga andiamo 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 Ma non raga posso fare una domanda anche se sembrerebbe alquanto strana Ma perché lo stanno Falla pure Falla pure Ma cazzo funziona sta modalità Cioè ti spiego Che conquista i cosi col fulmine Non timo Oh Cristo Hanno punti Capito quella è la cosa E tu conquisti Ma non devi conquistare le cose Sì sì Devi conquistarti le cose con i punti Raga state scherzando No C'erano le basi Questo mette senso a tutto Allora vi spiego Ok vado a conquistarne una io Raga vi spiego Ci sono i cosi Esatto quella lì che sta conquistando Predator No la vedete Appunto E nessuno mi dà una mano E fate tre punti Poi un'uccisione E sono morto E un punto Se ammazzi quello che ascende Sono cinque punti Capito Lo vede E se sei asceso Ogni tua kill vale due punti Oh datemi una mano Arrivo Fredelto Oh raga arrivo 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 Mi tocco il pise No è scappato È scappato Il caco è morto? È morto il cancro Morto il cancro Ma questo che viene a facecioccare? Oh questo 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 Sto provando Andiamo 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 dai 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 Let's go mother fucker Let's go Dai ci facciamo cioè Dai raga Raga Pierluca 3 User joined your channel Si bloccata la schermata Non ci credo Ma ragazzi È una situazione abbastanza rileva Ma noi siamo in quattro Perché Porte sei uno stronzo Porte sei una merda Forse sei una merda No raga fidatevi Potevamo vincere ma Porte Ciao Ma sono un autilus che mi odia Ma già avere Porte Ci fa perdere Comunque ragazzi La musica che sto ascoltando Vi lascio il link in descrizione di spotify E me l'ha fatto un mio iscritto Ringrazio È troppo gentile È troppo simpatico Oh raga 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 c'è il piso È morto È tutti morti Porte ma dove stai a fallire? Raga Raga c'è Porte che ti tocca la pata No scherzando Si sta fappando con la sua lunga spada Non ci fanno backdoor Si sta fappando con la sua lunga spada No no Porte sei l'anti-backdoor Lui si mette così in caso ci invadono la base Non abbiamo il problema Esatto Cioè lui è geniale È geniale Raga un'altra volta Raga un'altra volta Teemo Mamma mia Oh mio Dio ma perché C'è già a vedere Teemo un cancro Che bello stiamo a farmi Stacca buffo Oh raga come uno mazzi sto Teemo No raga Pierluca Sto arrivando Qualcuno mi sta andando shottata Ah raga arrivo 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 Per Pierluca Per Pierluca Per Pierluca Per Sparta Comunque allora ci sono presi tutti gli ascenzio No raga qua stiamo perdendo la bomba proprio Cioè ma perché stiamo perdendo la scienza Ragazzi ha un mega cancro dietro di noi Un mega cancro Ragazzi ha un tumore che cammina Qualcuno lo ferma È morto è morto No È stato il stadio terminale quel team Raga se poi all'ospedale vi diagnosticano un team Lasciate stare Niente da fare Ma quanto c'è stato? C'è stato? È morto però morto Oh raga mortissimo raga 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 Madonna raga Raga conquistiamo Qualcuno conquisti qui Qualcuno conquisti lì No vado io vado io vado io Raga no raga Questa è Pierluca che ci aiuta No cazzo No vai via Portes 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 è impazzito raga Portes è un uomo Guarda Portes che fa le auto plays Ragazzi Ragazzi Comunque c'è gente che si teleporta qui C'è Tim Il cancro è lui Comunque ringrazio Sog che se sarei mi ospitato nella live Anche se per metà serata non ho parlato Quindi grazie Sog Te vui boof Te vui boof No porca madre Aiuto No raga No Raga scandalo Ragazzi ho capito le meccaniche di questo gioco Ma raga l'ha capito Ho capito Dobbiamo camperarci in 5 appena torniamo Raga abbiamo vinto Raga abbiamo vinto Don't worry Raga 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 Vai 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 Bravissimi Bravissimo La crude ne sa troppo Oh qua qua Tu cancro Tu cancro Non riesco Porca cacro Merda Cassarine da fai Finisce la base Oh Non so Oh raga Mi raccomando Da finisci la mappa Raga scusate ma c'è la pata che mi sta scrivendo Oh E allora no Questa si può perdere sta partita Raga mi sta scrivendo la pata un secondo Oh personal score ho fatto 3 punti eh 6 punti Oh raga raga Ma mamma Porco Bravissimo Bravissimo No c'abbiamo giocato sta mappa Perché non abbiamo vinto Raga ricordatevi Calippo Il cancro Il cancro Il cancro Raga ricordatevi Calippo è il miglior nome U Oh raga ma riportate quel cazzo di support Non c'è una ward Infatti Allora Dobbiamo stare tutti gruppati Se a noi ci inculano a sangue questo Eccolo 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 Eccoli 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 Raga Sono tutti morti Raga Vabbè io me ne vado Prova Raga io scappo così E invece no Io me ne vado in base Aspetta qua non c'è sta la base No non c'è sta Merda Perché mi sono balgato nel muro Comunque L'utente che mi ha fatto la playlist Si chiama X no fantasy Scusate se non mi sono ricordato Comunque stiamo nella merda Però c'ho 11 sac No 12 Fermi raga Sto scrivendo a Slakty Chiediamo se l'ha buttato Slakty L'hai buttato Ragazzi questo era muslima Vole buttare al culo Non Slakty L'hai Slakty Oh mio dio Dove so volato Slakty l'hai buttato a Stefania Vediamo che ci dice raga Secondo Secondo me ragazzi Date una mano Stefania gli ha toccato il pise con la bocca Arriva raga Arriva 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 Raga la donna Madonna raga Il degrado Il degrado Comunque meanwhile Diana si fa il coso Io timo Io timo Qui è morto Basta che è morto Timo Basta che è morto Timo Oh mio dio Sono fungo da Timo Raga 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 Che palle storia Comunque andiamo a prendere questa cosa Qualcuno se teleporti qui andiamo C'hanno lo spawn e dura 5 secondi Madonna Possiamo ancora vincere Sono solo il doppio dei nostri punti Per coloro Non ci sta capendo Cazzo Ragazzi ci ho messo malissimo Ragazzi ci ho messo malissimo No ragazzi qua ci ho integrato Ragazzi L'ignorantezza In un solo video Capito Ma cos'è sta modalità Cioè Perché Era bruttissimo Sai il random Delle rank L'hanno messo anche qui Lol Ma secondo me queste qua Sono le modalità Che fa qualcuno Quando tipo sbaglia Al posto di premere Ranked Declassificata Magari Clicca su questo Per errore Ma cazzo Mi ha messo giocare Ranked Cioè Ranked Dove la foggo Questa cosa Raga 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 vado Uuuuh Uuuuh Su camminare C'è la pola della vita Lì Comunque andiamoci appena per questa cosa Venite 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 Vai 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 Nica 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 Siamo in teoria Raga raga No no Eccoli raga No no Qua ci partono Qua ci partono Qua ci partono Qua ci partono Raga Raga scappate per Pierluca Si salvi chi può Allora Io sto buildando roba a caso Perché non so come cazzo Raga Chi mi segue si tocca al piso Porco tu Ma quante volte spawno sto coso Al centro Ogni volta che un tizio muore Cioè Se tu lo fai E poi muori spawno Capito Eh grazie Beh sarà ogni Ogni certo tot di tempo Ogni certo tot di tempo Capito Più preciso Oh raga Fermi tutti No ragazzi 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 stanno infottendo Ragazzi brutte Brutte notizie Slakti non l'ha buttata Stefano Cioè No Scandalo Dice che in macchina a Milano Non si può Scandaloso Cioè a Torino A Torino A Torino si fa in strada E lì non c'è Ma ce lo siamo presi noi Cosa Veramente Grandissimo Grandissimo Oh raga Portes ne sa troppi Io ho sempre detto C'è stato FK Ci ha fatto perdere Però Ne sa troppi Però io c'è E' uno stronzo Però vabbè Oh vabbè Da 11 minuti 17 stack Sta venendo Sta venendo Raga Raga sta venendo If you know what they mean Portes You know Cioè ma Rengar in sta modalità E' per ora E' OP E' OP E' OP raga Ma che Brogan Ma che Brogan Prendi soltanto stack Praticamente quando ti muovi Ho capito ma c'è un tue spuglio Onni metro Cioè Siamo in Congo Non è che siamo in In Congo Perché non mi prende sta coso Ok Ciao poi Facciamo stare Facciamo stare No Stamosi sicurissimo Via Stanno teppando qua Andiamoci Via 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 Ragazzi Salvi Chi può E' insomma E' stato bello Andare in quel ciasco Raga E' La partita più degradante Delle due di notte Uh Uh Che C'è 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 Aspetta L'ho agro Così Attaccalo I nemici Guarda Porte So raga Porte Sfierissimo Porte Sfierissimo Io l'ho creato Per cercare Di fare vita Ma che state a fare Oh raga Raga C'è Xerath In mezzo Raga Raga Tutti a fottere Xerath Tutti a fottere Xerath No raga Raga No 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 Te lascio morire Tronso che ti sei preso lì Porco 2 Cioè mi hanno troppo Boh Dunque dobbiamo stare gruppati Quelli stanno Stanno nei bus Aspettando che sentiamo noi Vabbè lol lol No i buss sono bellissimi Raga facciamo Xerath Facciamo Xerath Io mi sono preso un item Che tipo un misto tra un Rabadon e un Che cazzo dici C'è un 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 Non mi ricordo Andiamo Xerath Xerath Uccidiamo Certo L'ho ucciso io o no? Sì sì C'è un grande Oh raga possiamo recuperare Raga possiamo recuperare Ragazzi Tutti a recuperare Sì ma la Sì ma li ha salvati Facendoli scappare così Ragazzi io ho un sogno Vincere questa partita Andiamo Sì il sogno di Mad era un altro Scoparsi dalla cazzo Infatti l'ha lasciata La fine l'ha lasciata Oh c'è Timo c'è il cancro Andatemi la mano C'è il cancro E Jarvan chiede scusa Per il suo male fatto Quanto meno che non riesce a fultarsi Essendo così grosso Oh raga sto Sto Rammus è troppo OP Sì Rompi i coglioni Ma dire Ho morto me sa In occhi di Dream Dream Believe Believe Allora una volta che so Un gatto grosso Non mi fate morire Ma ti rallenta Quando sei diventato grande Sembro più lento Non so perché Oh la gente non muore In sta modalità del cazzo Oh raga fidatevi Siamo sotto di 50 punti Possiamo fare Se conquistiamo tutto Da adesso fino alla fine È impossibile Believe Aspetta No ma ci abbiamo tutto No Non ci abbiamo un cazzo Oh Renga prenditi le cose Bravo Pensa vita Renga Prenda la vita Mi sto andando Ok 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 Ma è a pista cosa Scappa 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 E non posso scappar Qua è bloccato qua Non ci posso Buongiorno Buongiorno Ciao a tutti Da qui sono provato Buongiorno Ma comunque cassa di nè troppo più Vedate raga Io dico il vero Cassa di nè troppo E infatti Sto cassa di nè 11 di luce Shhh Non dire i dettagli che non servono Scusa Al pubblico servono Servono soltanto i dettagli migliori Abbiamo vinto i punti Vado io lo con la corda tina Oh intanto raga io sono il secondo che ha fatto più punti L'ho fatto più punti è Zed Alt Però come cazzo fa a vedere chi ha fatto più punti? Eh quello a fianco a te Cioè quello al posto di Mignanto Sono i punti che hai fatto capito Ah io l'ho fatto un cazzo No ho fatto tanta roba E' strano Io non volevo dirvelo Però a modo che ci tengo a riparare il mio scuro segreto E' tipo la quarta volta che attivo la R E' sbaglio il posto che premere 4 per usare il TP sulle cose Io premo il flash invece dell'Ignite Perché sbaglia da molto Oh raga un attimo un attimo Ok Non ci possiamo andare E non c'è una ultima Non ci arrivo con il range del Lippo No jarvan no jarvan no Eh raga abbiamo perso quando sta partita Cioè non possiamo recuperare Raga ricordatevi ragazzi 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 ricordatevi Ascension fa schifo Ricordatevi E' ucciso cosa Va bene Ucciso cosa Ragazzi Ascension merdo Ascension merdo Mamma mia Siamo ritornati in game E' finto E' finto E' finto Siamo bici Dobbiamo recuperare tutto Dobbiamo prendere tutto E' prendibile Io di Ana non l'avevo da 10 minuti Dico Che cazzo è successo Eh allora tieni a schiai ragazzi Siamo multai Siamo 5 contro 4 Non so per me spawnare No mo l'hanno uccise Eh infatti no no Non spawnava mica quando uccidevi Quello che ce l'aveva Ah lol Oh raga Aia Raga aia Io non lo so se questo Aia raga Raga sto perso Raga sbordati La kill di Dianne Sì perchè ti hai tirato un'alcudianto Vai 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 No 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 scappo in capo Scappo in capo Scappo in capo Mamma mia raga C'hanno un atoli Io ho provato a farmi io Ma me ne vado Ci si vede tutti Morite con onore Morite con onore No raga io Vido su sta cosa non lo carico Comunque abbiamo un po' perso Un po' perso Un po' perso Un po' che balle Proprio di due punti Oh raga partita troppo ignorante Dalle due di notte E per quello che abbiamo perso Io sono morto Tranquillo Tranquillo Combatteremo fino alla fine Raga combattiamo Raga combattiamo Vabbè allora Raga ci combatte Raga ci combatte Si combatte fino alla fine Non ci posso credere Che mi ha ucciso Io c'ho 25 punti Raga io non ci posso credere Sono nel secondo nel team Sono nel secondo nel team Ho vinto Cioè hai fatto più punti di me Ma è piccola merda Comunque abbiamo perso Abbiamo perso 193 punti Eh ormai perso The Dream in occhi The Dream Ah stai poto Io voglio spawnarmi Il team nemico Posso andare In occhi The Dream Voglio spawnare qui Mi fa andare Questa cosa qui Che si va a prendere questo Annata Cioè raga Se all'inizio avevamo un portes con noi Magari avremmo fatto qualcosa Ti visto che è meraviglio Io ve l'ho detto Che siamo mancati Io ve l'ho detto Che siamo mancati Questa è sfida Questa è sfida Questa è sfida Mi do sempre ciao Ma io Arrivo Sei inculato da solo Quello lì Ceciate Ceci 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 Come a me Ceci Vabbè ma tu Ma ragazzi Mi do sempre Aiuto S Place La mia Continua scappare così Io sono ancora vivo Non so come Ragazzi Sono là Sono là Sono là Dove Fanno andate Fatemi andare a prenderli Alla con qua Ho vinto Che culo I occhi Dream Ma sai Ragazzi Raga scappiamo Ragazzi Parla figa Andiamo! No, sono morto da te No, abbiamo perso Abbiamo perso, veramente La Tormel mi ha battuto La Tormel? Di Tormel sono morto Ma te ignoranti a questa modalità Io mi rifiuto a ricaricarlo meglio questa cosa LOL LOL Raga, il video finisce qui Quindi, alla prossima Un saluto da Zilla, un saluto da voi Dite ciao Dite ciao Ciao Ciao